Abbiamo fatto questa mostra un po' per accelerare questi dieci anni di attività e abbiamo cercato di ripercorrere un po' tutto il lavoro svolto in questi anni. In questa mostra collettiva abbiamo voluto inserire tutti o quasi tutti gli artisti della galleria con cui abbiamo collaborato nel corso di questi dieci anni. Gli accostamenti in una selezione così vasta sono stati necessariamente estetici ma in qualche caso anche tematici. In questa stanza, oltre alle video interviste girate in occasione degli opening e al video della performance di Ragnar Kjartansson ci sono Gal Weinstein che rappresenterà Israele alla prossima biennale di Venezia e Stefani Nava con delle opere in cui il paesaggio è protagonista. Sul mezzanino invece troviamo Emma Ciceri, Marta Sforni con una pittura a olio, Schimil Kim, di nuovo Emma Ciceri con dei lavori tridimensionali e ancora Bell Weinstein. Scendendo le scale incontriamo Caterina Silva e Stefani Nava che abbiamo voluto accostare portandosi di un dialogo tra uomo e donna dichiarato nel dittico di Stefani e sottointeso nelle due opere di Caterina. Ritorna poi il tema naturale con Marcello Moschetta, ancora Stefani Nava, Veronica Smirno e Fesiliano Sediera. Un aspetto invece più politico si manifesta nelle opere di Lisi Raschi, Sorellosa e Rui Rose. Come ultime opere nel percorso espositivo c'è Lisi Raschi che avremo mostrato a settembre, poi Rui Rose che invece è stato invitato ad Ocmenta e ci aspettiamo a sfumare il prossimo anno molto efervescente e con tanta soddisfazione soprattutto per tutti gli anni. Grazie a tutti.